Ragazzi e qua siamo al raduno di Dragon Ball Ora facciamo l'intervista a tutti loro Facciamo a tutti i cosplayer di Dragon Ball Compreso me Benvenuti in Kiwi E quindi ci sono tutti loro Iniziamo dai geni Dai geni delle tartarughe Ragà come ve chiamate? Chi siete? Come ve chiamate? Dillo tu, diglielo Maestro Mute, è un piacere Alzate a voi Che si che non si sente Maestro Mute Marten Roshi Marten Roshi C'è pure Tenzing Giusto? Però c'è sta A sorpresa Perché a sorpresa non si vede C'è sta pure Riff Ragà c'è sta pure Riff Come te chiami? Tenzing Tenzing Qua c'è sta pure? Balados Brava ragà Ragà qua Fatti i buoni Che sennò questo prende e ve succhia tutto Perché lui è Cell E Cell E Cell raga Qua c'è sta pure Trans C'è sta Trans C'è abbiamo un po' di Trans Ci abbiamo E lui è l'eleno E lui Trans con May Fagli vedere la fucilata Anzi Fagli vedere la fucilata C'è sta Junior Che ancora non è diventato arancione Tra poco Se incazza E poi diventa arancione La prossima volta Lo faccio vedere Qua invece c'è sta Yamcha 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 che sarà meno Tipo la decima volta Che muore E che fucilata Basta È finito di morire Andiamo avanti Andiamo avanti Che qua c'è sta pure Black Goku Black Goku Che è questo Non fate incazzarsi Sennò prende e va ammazzare A tutta la famiglia Quindi non fate incazzare Perché c'è sta pure L'altro demone Poi qua c'è sta L'altro è Bulma Quante Bulma c'è stanno Due Bulma C'abbiamo Ragazzi ne volete Due Bulma Come ti chiami tu Liliana Liliana E questa la conoscete Già C'è sta tante volte Nel video Bulma Ecco brava Bulma C'è sta invece Grezzaiamen Grezzaiamen Non diciamo Chi sei veramente State zitto Non diciamo Chi sei veramente Sei Valerio Valerio Bravo Invece qua c'è sta L'altro trans C'è sta L'altro trans Come te chiami Francesco Francesco Da dove vieni Da dove vieni Fammo sapere Provincia di Bari Provincia di Bari E dillo Dove Dillo Da Bitonto Non volevo dire Non te preoccupa Poi invece Come vicissimi Qua c'è Stazzi Il dio della distruzione Dategli roba buona da mangiare Se no ci ammazza a tutti Il peggio di Thanos Ci ammazza questo Perché siamo con Virus Con virus siamo E io Martina L'amante di virus Due virus Sì Aspetta Io qui ce vedo Triplo Perché ci stanno Tre virus Ragà qua Stiamo a rischiare L'estinzione Stiamo a rischiare Quanto è corino Ma mai Io vede Sto dipinto Quanto è bello A fucci fucci Ragà qua invece C'è sta L'essere Più potente Di tutto Dramon Ball L'essere Più potente Di tutti E Arale Ragà Arale Arale La più potente Di tutti quanti Inutile Arale Col Baby Goku Col Baby Goku Ragà Ragà qua c'è sta Invece C18 Eleonora Digliolo che non si sente Eleonora 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 Con l'altro L'altro trans Qua ci stanno Un bel po' di trans Ci stanno C'è sta l'altro trans Come te chiami Simone Simone Qua invece C'è sta il super Super genio Fai chiedere I muscoloni Fai chiedere Invece qua C'è stanno Una Due Quante ce ne stanno Due 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 Videl C'è sta Si sono sdoppiati Hanno fatto Ho sdoppiamento Due Videl Con Ragà Ragà E c'è Grande Ospitata Goku Ultraistinto Che ci ha aiutato Anche a montare Il 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 Corso Diciamo Ultraistinto Fagli vedere Fagli vedere Di chi è qualcosa Come te chiami Moreno 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 Invece qua c'è stanno Uno Due Quanti altri Grezzaia Mi c'è stanno Due Sì Quei ragazzo Ne volete Grezzaia Due Come vi chiamate Fagli Non si può Dire che siamo Grezzaia Bravi Non si può Non si può Dire Come si chiamano Qua invece c'è Il protagonista Di uno degli ultimi Film Che è Goal Come te chiami Tu Marco Marco Tutto Tutto fraci Consanguinato Sì Perché ha appena Appena ucciso Cell Che abbiamo visto Poco fa Abbiamo visto Ma che carino Quanto sei bello Con l'altro Dog Goku Perché Con Bulma Giusto E la Bulma E te chiami Clizia Clizia Ma quanto sei carino Fai l'amore Bello Invece qua Ci stanno Gli altri C18 E l'altro Trans Tutti roba Trans Qua pare Asalaria Pare Tutti trans Come te chiami Matteo E Ilaria Bellissimi Ragazzi Bellissimi E io invece Sono Kiwir Mi raccomando Ragazzi Iscrivetevi Al canale Lo dice anche Tutta quanta La squadra Di Dragon Ball GOOOOL GOOOOL Grazie a tutti!